ok buonasera a tutti grazie per essere venuti numerosi come ormai saprete noi siamo il pug romagna eravamo un pug itinerante che si incontrava in giro per il territorio romagnolo da un annetto siamo per forza di cose online continuiamo a incontrarci una volta al mese e sul gruppo meetup che vedete condiviso sullo schermo ci sono tutte le informazioni sulle nostre serate questa sera parliamo di php 8 delle novità di php 8 insieme a matteo galacci che oltre che speaker è anche uno dei degli organizzatori di questo di questo pug e la prossima serata sarà a inizio marzo dove invece parleremo di alessandro aiutami symphony e hexagonal architecture insieme ad alessandro minoccheri se volete proporre talk candidarvi per parlare di un argomento o comunque proporci qualsiasi cosa vogliamo mettere in piedi provare a fare insieme e potete visitare il nostro github e che trovate linkato all'interno del meetup e così da da vedere quali sono le proposte attive votare quelle che vorreste sentire e aiutarci nell'organizzazione con qualche suggerimento e la novità che vi volevo preannunciare è che insieme agli altri pug italiani stiamo organizzando un'edizione del php day online che sarà chiamata pug edition c'è già stata l'anno scorso quindi stiamo facendo la seconda edizione e sarà il 18 di marzo a breve ci sarà online il sito la possibilità di insomma pre-registrarsi l'evento gratuito però posti limitati e se non siete iscritti al nostro gruppo di meetup vi consiglio di iscrivervi perché lì girano oltre a questi annunci e anche eventuali sconti e codici omaggio per conferenze e tutta un'altra serie di benefit che il grusp ci ci passa e altro benefit che abbiamo questa sera come vi dicevo prima di iniziare abbiamo gli elefantini di siteground da regalare ne abbiamo uno e che possiamo o consegnare a mano se abitate abbastanza vicino a me oppure lo spediamo per posta su tutto il territorio italiano e quindi chi si vuole iscrivere ha la possibilità di vincere l'elefantino può lasciare il nome su slido e a fine serata faremo il sorteggio così un fortunato vincitore lo potrà ricevere per posto detto questo vi ringrazio di nuovo e vi risaluto tutti lascio la parola a matteo e quindi buona serata ci sentiamo più tardi bene ciao a tutti allora adesso condivido lo schermo ok si vede mi date un feedback si dovrebbero vedere le slide ok grazie allora ciao per chi non mi conoscesse mi chiamo matteo galacci lavoro come freelance mi occupo di architettura software e sviluppo back end da un po di anni faccio diciamo il consulente dal 2008 prima era più una cosa amatoriale poi mi sono appassionato ad alcune cose sulle quali mi sono verticalizzato quindi sull'architettura software il back end ddd e tutte queste cosine qua faccio parte come diceva nicole del pugro magna e questa sera vi racconto qualcosa del nuovissimo php 8 che è uscito da poco innanzitutto doverosi soliti ringraziamenti a ricco che ogni tanto mi passa info e materiale quindi ci tengo sempre a farvelo conoscere perché non lo conoscesse lui diciamo un buon punto di riferimento in italia per tutto quello che php e mi ha detto che posso spoilerare già che entro maggio dovrebbe uscire il suo nuovo libro su php 8 quindi state con gli occhi aperti allora parto brevemente sì c'è scritto php 7 non è un errore giusto per fare un attimo un recap quindi abbiamo avuto php 7 fino dicembre è una release che è durata non tanto come php 5 che è stata su 11 anni però ugualmente durata tanto e state notando probabilmente che sempre più veloce lo sviluppo di php c'è la community che sempre più grande ci stanno dedicando sempre più tempo e e a dicembre uscito php 8 che ha rimpiazzato rimpiazzato meglio che andrà a rimpiazzare php 7 che è stata su per cinque anni a differenza della 5 che dicevamo è stata su molto di più 11 anni l'attuale release è la 801 801 che è uscita tre giorni fa mi pare ma non contiene altro che bug fix quindi nessuna feature tutte le rfc più importanti sono state rilasciate con la 80 e ce ne saranno altre per la 8.1 della quale già si sta parlando e anche lì ci saranno delle cosine interessanti quindi versione attuale 801 e questa tabellina la faccio vedere ogni volta che parlo di php aggiornata qualche giorno fa quindi ci dà un'idea di come siamo messi a oggi e è interessante vedere che php 7.3 già e si può dire agli sgoccioli perché è mantenuta solo per quanto riguarda le correzioni riguardo problemi di sicurezza quindi l'ultima versione della 7 che è ancora attiva e la 7 4 quindi già questo secondo me ci dovrebbe fare meditare su passaggio a php 8 quantomeno per i progetti nuovi poi o progetti legacy può essere difficile perché poi la retro compatibilità è sempre più difficile da gestire ok questo schippo un attimo delle delle slide che per il tempo che ci serve per php 8 non riusciremo a vedere e quindi parto direttamente con un po di cose su php 8 allora non ci sarà php 7.5 quindi la 7 4 è proprio l'ultima versione come come si è poi capito dalla tabella che abbiamo visto prima e che cosa ci porta di nuovo io ora vi mostrerò una carrellata di cose le nuove che ci porta php 8 non sono tutte non sono tutte vi darò i riferimenti per andare a vedere però ho preferito concentrarmi su quelle più carnose quelle che veramente ci danno che hanno un impatto anche su noi sviluppatori finali perché alcune cose sono magari comportamenti interni che ci arrivano in modo secondario allora innanzitutto compilatore git è un nome che già si sente da un po ed è una feature importante secondo me da capire anche se l'ho voluta mettere ugualmente anche se probabilmente non ci cambierà la vita nel lavoro di tutti i giorni è una feature grossa ma probabilmente per molti di noi non sarà così impattante poi vediamo il motivo union types chi utilizza altri linguaggi di programmazione probabilmente si già si immagina già di che cosa parleremo constructor property promotion anche questa è una feature interessante che in altri linguaggi c'è static return type lo vedremo come tutti gli altri la possibilità di intercettare la classe il nome della classe da un oggetto interfaccia stringable molto utile a mio avviso attributi anche questa sarà una cosa che ci ci porterà via un pochino di tempo sulla quale vedremo magari anche degli esempi lato codice perché sono veramente ostici e probabilmente non saranno anche questi almeno per come li li vedo io un qualcosa che andremo a usare tutti i giorni named arguments null safe operator una feature carina riguardo gli array con i quali potremo sfruttare anche in modo utile indici negativi true expression vedremo questa è un'altra bella cosa match expression e poi virgolina finale anche nei parametri dove vedete v2 tipo attributi v2 match expression v2 è perché l'rfc che è stata approvata è la versione 2 perché sono argomenti che magari erano discussi da tempo quindi c'è stata una rfc v1 e alla fine poi la v2 è stata quella approvata allora io ora inizio in ordine quindi partiamo con git magari sempre dato che siamo online se avete domande ve le segnate poi alla fine ovviamente ne parliamo allora che cos'è git just in time è un compilatore e dell'interpreter and time di php e in cos'è che aiuta invece di interpretare il byte code che quel codice che si trova in fondo a tutto il ciclo di vita di compilatore php e ci aiuta a compilare il nostro codice direttamente in codice macchina e poi lo andiamo invocare direttamente come codice macchina ora vi spiego meglio cosa intendo questo diagramma ci fa un attimo capire come funziona il ciclo di vita di php base quindi abbiamo lo script php l'interprete php prende il nostro script e lo lo suddivide in blocchi la parte appunto di tokenizing è la parte in cui il nostro codice php viene suddiviso in blocchi in token appunto successivamente viene fatto il parsing di questi blocchi e per ognuno di questi blocchi viene verificata la sintassi no che quindi tutto tutto il nostro codice rispetti le regole grammaticali di di php e costruisce un albero sintattico quindi è un albero sintattico in cui questi blocchi sono messi in ordine per garantire che l'esecuzione continua di questi blocchi poi porti al allo script finale dopodiché questi blocchi vengono vengono compilati in op code di basso livello ok quando si dice che php è un linguaggio interpretato non si sente tantissimo questa diatriba ancora a distanza di anni no php non è un linguaggio compilato un linguaggio interpretato in realtà quello che viene interpretato non è il codice che noi programmatori php scriviamo nel nostro ide quello che viene interpretato è è l'op code quindi c'è già stata una fase di elaborazione del nostro codice sorgente per arrivare l'op code ed è quello che viene interpretato ultimo step l'op code appunto viene interpretato viene eseguito sulla sull'azienda sullo zed engine che poi esegue istruzioni direttamente sulla cpu quindi questo dovrebbe fare un attimo capire che si con interpretato fino a un certo punto non del tutto compilato ma neanche del tutto interpretato probabilmente questo è il ciclo di vita di uno script php qui vi ho fatto vedere brevemente cosa succede quando quando la parte di compilazione che genera l'op code trasforma un ciclo for in appunto p code quelle quelle sette righe che anche a me alzo le mani sono sono veramente incomprensibili linguaggio tipo l'assembly e op code quindi alla fine della fiera quello che viene trasformato in codice macchina ed eseguito sulla cpu e codice di questo genere ma bene che cosa è successo in un secondo momento all'incirca se non sbaglio da php 5.2 è arrivato op cache che probabilmente sentite sempre è un'estensione php che già da php 5.5 mi pare c'è di default quindi voi installate da una versione che va da php 5.5 in su e op cache è attivo di default in cosa consiste il ciclo di vita dello script php che abbiamo visto prima rimane invariato però c'è una differenza viene eseguito un controllo viene fatto un esce del vostro codice sorgente e viene verificato se questo esce già in memoria allora se non c'è ancora si verifica tutto il ciclo che abbiamo visto poco fa diversamente o meglio esegue tutto e poi se lo mette in memoria così poi al prossimo giro quando viene rieseguito lo stesso script se lo trova nella op cache che nella quale abbiamo salvato dell'op code op cache contiene op code e quindi tutti gli step intermedi dove dobbiamo andare a creare i token dobbiamo fare l'abstract syntax tree dobbiamo andare a vedere se la grammatica è corretta saltiamo perché è già stato scritto nella op cache e quindi andiamo direttamente a compilare l'op code ed eseguire codice macchina sarebbe stato bello ai tempi vedere dei benchmark credo di non sì credo no forse lo usavo quando non c'era p cache però chissà e bene andiamo avanti ci avviciniamo sempre di più alla situazione attuale ecco qui ho dovuto fare una parentesi importante sempre per migliorare le performance con php 7.4 quindi c'è già ho avuto piacere di metterlo per chi magari non non ha ancora avuto a che fare con questa feature il preloading non ho neanche tradotto tutte le slide ahimè e il preloading di php 7.4 ci dà modo di avviare o meglio all'avvio del server ci dà modo di precaricare degli script in memoria delle classi ad esempio in modo che immaginatevi non so tutto il preloading di un framework quindi il fatto che vengono caricate determinate in classi in memoria viene fatto l'work map della cache eccetera lo si può fare in automatico l'avvio del server e quindi questo è un ulteriore layer di ottimizzazione sopra p cache una controindicazione del preloading è che se modificate i file che sono stati gestiti tramite il preloading rimangono lì questa cache va invalidata e tendenzialmente finché il server rimane su quel preloading rimane invariato quindi anche questa è una funzionalità da da soppesare esatto esatto quindi o p cache preload è la direttiva all'interno del php ini con la quale gestite questa questa funzionalità e potete caricare dei file aggiuntivi no quindi oppure avete tutta una serie di funzioni tipo p cache compile file con la quale potete interagire con con questo tipo di precaricamento in fondo alle slide poi vi trovate sempre anche il link di riferimento se volete andare ad approfondire ulteriormente la cosa bene vediamo adesso che cosa fa gitt in più come vedete la parte di sinistra è uguale quindi c'è o meglio nel mezzo il flusso che abbiamo visto prima a sinistra abbiamo op cache no quindi io mi chiedo se lo scritto già in memoria eccetera fino qui quindi rimane tutto uguale e gitt lavora in simbiosi con il compilatore con quindi con quella parte che interpreta l'op code interpreta l'op code e poi lo va a eseguire nella nello zend engine in questa fase di compilazione potrebbe intervenire gitte dico potrebbe perché ci sono delle regole che decidono se deve partire o no poi le vediamo e che cosa succede questo compilatore prende delle porzioni prestabilite di codice delle funzioni principalmente dopo vediamo con che criterio e le traduce direttamente il linguaggio macchina quindi viene bypassata anche quella parte di interpretazione dell'op code dove 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 viene salvato questo codice macchina nella stessa op cache quindi con l'introduzione di gitt op cache contiene sia op code sia codice macchina poi lo zend engine sa capire bene se è una cosa l'altra e sa che cosa farci quindi questo è un ulteriore livello di velocizzazione di tutto il nostro processo di interpretazione chiamiamolo così del nostro script php allora come funziona gitt un pochino più nel dettaglio c'è un acronimo il crto che è un acronimo il il cui valore è formato da quattro cifre ok quella che noi ci interessi o poi vi ho messi riferimenti a tutti ma quella che noi ci interessa è la la numero il terzo numero quindi profile on the fly and compile out function il trigger perché il il numerino il terzo numero è quel numero che dice agite quando mettersi in moto ok in che modo lo fa questa magari ve la rivediamo dopo è un po il dettaglio allora il terzo numero del crto quindi il trigger può avere tutti questi valori qua compila tutte le funzioni al caricamento dello script quindi cosa vuol dire lo script viene entra nel ciclo di vita quando arriva allo step del compilatore tutte le funzioni presenti nel vostro script vengono compilate tutte e vengono salvate nella op cache sono lì pronte da eseguire in in linguaggio in codice macchina questo è il valore zero diversamente possiamo dire no quando lo scritto viene eseguito tu non fare niente le compili solo quando effettivamente la funzione viene eseguita la prima volta quindi finché quella funzione non viene eseguita jit non parte il valore 2 che cosa fa fa la profilazione alla prima richiesta dello script quindi la profilazione vuol dire che lui capisce un po tutte le funzioni che ci sono nello script però fa la compilazione solo di quelle che vengono utilizzate maggiormente ok quelle più quelle che secondo lui secondo i suoi criteri hanno più vengono chiamate più volte qui fa profilazione al volo quindi eseguo lo script subito e nello stesso momento vado subito a capire anche tutte le funzioni che vengono chiamate maggiormente le compilo la 4 adesso che è uscito php 8 è diventato un valore non utilizzato nella rfc precedente il valore 4 aveva la funzione che ora invece hanno dato al 5 ok ossia noi possiamo esplicitamente marcare una funzione con un attributo con un identificatore chioccio la jit con un annotation per intenderci e allora jit capisce che quella funzione è da compilare questa è ad esempio molto comoda per chi sviluppa delle librerie o dei framework perché in fase di sviluppo potrebbe manualmente decidere che cosa far compilare cosa no se andiamo a vedere adesso ve lo faccio vedere un'installazione php php 8 e andiamo a vedere com'è configurato il compilatore jit appena installato vediamo che nel php.ini abbiamo opcache.git uguale tracing quindi che valore dcr ctr o vabbè mi incarto anche io che valore di ecco dcr t o è il tracing sono andato un po a vedere e ho trovato queste cosine qua allora opcache.git di default quando installate php 8 abbiamo detto che tracing però può avere questi valori può avere disable quindi gite totalmente disabilitato off dice gite è spento ma a runtime può essere attivato ok ad esempio quando andiamo a mettere chioccio la gite quando usiamo l'annotazione on ho trovato nel in un sito che poi vi dico che mi dicono che è un alias di tracing il tracing è quello di default che equivale al valore 1 2 5 4 quindi il 5 andiamo a rivedere il 5 è appunto e utilizza gite fa la profilazione al volo e compila e adesso vi spiego anche la differenza con il trace e le function esatto perché come vedete opcache.git tracing oppure opcache.git function qual è la differenza? la differenza tra function e il tracing è che con il function gite andrà a ottimizzare il codice unicamente il codice all'interno dello scope di una singola funzione ok se invece diamo tracing gite va ottimizzare tutto lo stack collegato a quella funzione quindi se poi la funzione chiama altre funzione gite le segue questa è la differenza quindi di default gite lavora così le funzioni che sente di dovere fa la profilazione capisce quali sono le funzioni più utilizzate e ne fa la compilazione in modalità tracing quindi è quello che secondo gli sviluppatori è la modalità più utile nell'uso quotidiano diciamo e oppure potete dare al crto un valore arbitrario quindi potete indicare i quattro le quattro cifre e quindi configurarvelo in modo dettagliato e la cosa adesso che mi interessa farvi notare che raccontata come l'ho raccontata a patto che io l'abbia raccontata bene sembra una cosa potentissima che promette di velocizzare tantissimo tutto in realtà non è proprio così questi sono dei numeri di benchmark fatti con gite attivo e non attivo allora la sorgente la trovate sempre in questa slide ci sono degli script degli degli script fatti proprio uno zend benchmark sono gli script php che si usano per fare appunto prove di velocità e quindi abbiamo 190 richieste al secondo senza gite però come vedete addirittura php 8 con gite attivo è una determinata configurazione di ctr o addirittura ne faccio di meno quindi dice ma come non dovrebbe velocizzare si può migliorare cambiando appunto il trigger vedete il terzo numerino da tre è stato messo a due siamo vicini comunque seppur di poco si può dire che siamo tornati alla velocità di esecuzione del di php 8 senza gite allora a che cosa ci serve questo questo gite è una funzionalità che si è attiva di default ma è particolarmente utile nelle applicazioni cpu intensive banalmente ad esempio machine learning perché si ora si può fare machine learning anche con php grazie a delle funzionalità tra l'altro che hanno introdotto con php 7.4 però la manipolazione delle immagini la creazione di file pdf che penso che siano cose che si fanno abbastanza spesso ecco l'igit fa la differenza e non ci dà minimamente aiuto in tutte quelle operazioni che lavorano in input out quindi se il mio software lavora intensamente con il database l'igit non mi farà la differenza ok questo è un'immagine di un benchmark che ho trovato fa riferimento a php 8 dev ma vi assicuro che con con la release ufficiale questi numeri non cambiano e tempo di esecuzione ok quindi abbiamo php 7.4 già vedete che da da 7.4 a 8 dev già la php 8 è diventato ulteriormente più veloce 7.4 con opcache ovviamente va molto bene 7.4 e 8 entrambi con opcache se la giocano 8 dev più gite migliora però ripeto siamo sempre in benchmark che in qualche modo vanno a fare delle operazioni che caricano la cpu se noi andassimo eseguire un wordpress faccio un esempio banale su un php 8 con o senza gitt non vedremo differenze ok quindi su gitt direi che siamo posto ecco ve ne ho voluto parlare ugualmente di questa funzionalità anche se è trasparente per noi perché ripeto installate di hp 8 è già attivo perché comunque è una feature importante con php 7.4 che abbiamo che ci dà l'opportunità di interfacciarsi con librerie esterne ripeto possiamo arrivare a fare machine learning allora se decidessimo di usare php 8 con gite per fare delle cose di quel genere allora sì che la vediamo la differenza ecco passiamo agli union types che per chi viene da altri linguaggi dovrebbero essere una cosa non nuova allora facciamo un esempio in questo snippet vediamo che io ho una variabile number alla quale tramite il la notation ho detto che può essere un intero un float questo è lecito fino penso che si sia fatto spesso o addirittura è stato introdotto noi il punto interrogativo per dire che una variabile può essere anche null che cosa ci danno le union ci danno questa sintassi qua cioè la possibilità di indicare la una doppia o anche tripla tipologia di una variabile in questo caso stiamo proprio dicendo a php che number può essere un intero un float la differenza è gigantesca questo è un commento quindi è un'indicazione per me che leggo il codice e per l'ide se ho un'ide intelligente come php storm può fare un minimo di analisi statica interna e dirmi guarda che ci stai mettendo una stringa però nell'annotazione mi hai detto qualcos'altro qui invece il controllo è runtime quindi in fase di compilazione dello script lì dentro non ci può andare una stringa un array un oggetto si spacca ottengo un errore quindi questi tipi sono effettivamente applicati non sono solo suggeriti e dal momento che stiamo indicando la tipologia di quella variabile non rientro neanche in un problema che capita spesso del non aggiornamento dei commenti perché lo sappiamo i commenti meno si mettono e meglio è perché perché difficilmente vengono aggiornati ci si dimentica c'è una svista eccetera il tipo della variabile o è corretto o me ne accorgo e quindi sono costretto a starci attento e i tipi sono soggetti a ereditarietà questo c'è il comodo anche per l'applicazione per chi conosce della L dei principi solidi posso andare a specificare un tipo e tutti i suoi sottotipi si comporteranno allo stesso modo voglio aprire una parentesi questa nota dell'autore le union sicuramente sono molto comode ma non dobbiamo abusarne se io faccio int pipe float pipe string pipe array pipe object perché lì dentro potrebbe starci qualunque cosa allora è come se io quella variabile alla fine non avessi dato un tipo torno a php5 non posso indicare il tipo della variabile insomma quindi è una feature utile ma secondo me è un'arma a doppio taglio va usata con condizioni di causa se sviluppiamo il nostro codice stando sempre attenti al dominio o al comportamento corretto già questo esempio per me stona un po' c'è un hint o un float perché ci possono essere entrambe le cose personalmente me lo chiedo due volte se è il caso di usare una union vorrei essere sempre certo del tipo di dato che c'è in quella variabile se ho un'ambiguità di questo genere probabilmente devo rivedere qualcosa però ecco questa è una mia considerazione ok promozione delle proprietà del costruttore questa è veramente utile e no arma a doppio taglio questo è veramente utile in questo snippet di codice vedete un classico servizio dove al costruttore vengono passati due parametri sto passando un array e sto passando un oggetto e poi faccio a riga 12 e riga 13 vado ad assegnare questi parametri in entrata alle proprietà private della classe penso che a questa cosa siete abituati tutti da sempre benissimo cosa ci fa fare php 8 ecco qua promozione automatica quello che entra nel costruttore se io indico la visibilità direttamente nel costruttore non ho bisogno di dichiarare in modo esplicito le variabili come vedete io nella funzione params posso ritornare la variabile params nonostante non sia dichiarata e questa è la differenza quindi la possibilità di poter indicare la visibilità direttamente nel costruttore io ora le ho mandate a capo per migliorare la lettura ma potrebbe essere anche tutto su una riga come vedete dentro il costruttore non ho dovuto fare l'assegnamento non ho fatto niente il costruttore è vuoto però la variabile esiste questo varrebbe anche per l'oggetto ovviamente ok static return type static return type vuol dire che ok allora in questo esempio che cosa vediamo vediamo che ho un metodo create che ritorna self self era il modo che avevamo fino prima di PHP 8 di dire a un metodo che quel metodo ritorna la classe stessa ritorna a se stessa ok quindi il create se io facessi il new della classe A create mi tornerebbe A dov'è il problema? che se io estendo la classe A quindi vado a istanziare B chiamo il metodo create quando faccio un var dump come vedete l'oggetto è di tipo A cavolo ma io ho esteso A con la classe B faccio un var dump su ciò che mi ritorna un metodo che chiamo tramite la classe B e mi torna A ecco questa cosa qui la risolve PHP 8 invece di ritornare self possiamo ritornare static lo stesso esempio però se vado a fare un var dump di result in questo caso come vedete obgetti di tipo B questa è molto comoda nelle interfacce fluenti quando voglio fare chaining di vari metodi e quindi avere riferimento sempre all'oggetto sul quale sto lavorando e non sull'oggetto padre come in questo caso ok ecco anche questa è una cosa comoda probabilmente lo avete spesso usato quindi probabilmente avete usato due punti due punti class sul nome di una classe ok con PHP 8 lo possiamo fare anche sugli oggetti quindi questo è PHP 5 ma anche 7.4 quindi classe un bar un full bar due punti due punti class e mi dice tutto il suo namespace eccetera con PHP 8 lo possiamo fare anche sugli oggetti lui è abbastanza intelligente da capire ovviamente che se la variabile non contiene un oggetto mi deve dare un errore questo object class è la stessa cosa che succedeva facendo get class object quindi ci hanno semplificato un pochino la vita con questa nuova sintassi anche questa penso che possa essere piuttosto utile ecco bene anche questa non è male interfaccia stringable quindi è stata introdotta questa interfaccia proprio fa parte del core di PHP stringable che vuole che la classe che la implementa abbia il metodo toString questo è un metodo che esiste è un magic method che è comunque noto in PHP ritorna una stringa se fate una classe nella quale implementate o meglio nella quale definite questo metodo in automatico quella classe implementa l'interfaccia anche senza esplicitamente scrivere implements stringable questa è una cosa utile quindi come vedete se io vado a fare un var dump di new fu passato alla funzione bar lui riconosce ecco come vedete qui sto usando un union type gli dico può accettare una stringa può accettare stringable e lui mi ritorna comunque il mio fu ok lo sto già usando in effetti mi sta mi sta tornando utile soprattutto perché ha questo meccanismo di di auto implementazione diciamo ok gli attributi qui suddiremo un attimo perché sono qualcosa di veramente particolare che in php fino oggi abbiamo diciamo utilizzato con degli scamotaggi come le annotazioni allora innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è un attributo un attributo non è altro che una classe che marca se stessa come attributo quindi se sopra una classe io scrivo questa cosina qui cancelletto attribute per php è un attributo bene se andate a fare delle ricerche sugli attributi troverete grammatiche diverse e nelle varie rfc erano state fatte varie proposte prendendo spunto da linguaggi come python e altri linguaggi quindi qualcuno aveva proposto di usare le parentesi angolari qualcuno di usare due volte la chiocciola ma alla fine l'rfc che è stata accettata prevede questa sintassi qui ok gli attributi quindi ci danno modo di aggiungere dei metadata metadata machine readable quindi che cosa vuol dire che io a una classe a un metodo a una funzione parametri proprietà qualunque cosa del mio codice io posso aggiungere un attributo questo attributo è comprensibile dal compilatore a runtime ed è una bella differenza rispetto alle annotazioni che abbiamo sempre usato fino ad oggi dopo dovrei averlo messo anche come esempio a oggi abbiamo tutti usato credo chi più chi meno la libreria doctrine annotation chi usa doctrine come da manuale spero pochi e taggano le proprietà di una classe per fare le mappature degli schemi del database eccetera si usano le annotazioni di doctrine ecco quelli in realtà sono commenti quelli per php non sono assolutamente niente vengono totalmente ignorati poi c'è la libreria di parsing di doctrine che legge questi commenti e ci fa cose però capite che è dispendioso perché già c'è tutta la fase di compilazione del codice tra l'altro l'abbiamo visto prima e in più devo andare a leggere i commenti e interpretarli per fargli fare cose che effettivamente sono utili al software quindi è dispendioso bene sono stati introdotti quindi questi metadata comprensibili a runtime ecco appunto sono ispezionabili a runtime tramite la reflection questa è la cosa più importante la reflection per chi non l'ha mai usata comunque è un api di php che mi dà modo di andare a frugare dentro una classe dentro un metodo capire di ispezionarla all'interno e quindi è tramite la reflection che io posso andare a vedere in metadata di una classe ad esempio e gli attributi sono molto utili a mio avviso per chi fa framework per chi fa librerie è una funzionalità di php che ancora almeno degli esempi che ho visto dalle prove che ho fatto gira molto intorno al discorso della registrazione registrazione inteso come un publisher subscriber o un registro ci devo infilare dentro vari oggetti che poi andranno a risolvere una condizione sono tutte cose che ad esempio oggi si fanno tramite anche il container di symphony per chi usa symphony io a symphony posso dire trovami registro una risorsa una cartella e gli dico tutto tutte le classi che sono lì dentro e sono istanze di una determinata interfaccia poi le me le infili dentro il registro ecco questi meccanismi magici che facciamo tramite symphony tramite le librerie di annotazioni ora potrebbero essere sviluppate tramite le annotazioni perché le hanno chiamati attributi perché c'era già il nome annotazione era già abusata in php noi parliamo di annotazioni e sappiamo a che cosa ci riferiamo doctrine annotation ma in realtà sono commenti come vi dicevo e quindi per distaccarsi dall'uso che si è fatto oggi di questo concetto hanno voluto utilizzare il nome attributo e gli attributi quindi possono essere pensati può essere visto come un livello di configurazione direttamente integrato nel codice quindi io taggo diciamo così taggo determinate classi determinati metodi con degli attributi perché poi tramite reflection voglio fare delle cose magiche perché l'ho messo in giallo configuration perché questa rientra in quelle feature che secondo me sono un'arma a doppio taglio che cosa intendo che un'arma a doppio taglio fighissimo ci si possono fare tante cose sicuramente quando rimpiazzeranno le doctrine con questo ne gioveremo tutti però non è che tutto quello che PHP ci offre dobbiamo usarlo nella nostra quotidianità di programmatore mi piace il codice esplicito mi piace il codice che parla la lingua del dominio quindi tutto ciò che è un po' magico lo lascio a chi fa i framework lo lascio a chi fa le librerie lì sì che hanno bisogno di cose magiche ok non mi viene ancora in mente un utilizzo quotidiano delle annotation in tutto quello che sviluppo durante il giorno ho trovato un esempio preso dal sito di PHP che è molto borderline ve lo faccio vedere adesso direttamente sul codice ma ripeto è veramente borderline cioè risolvere il problema che vi farò vedere con le annotazioni per me è una forzatura preferisco sempre concentrarmi su quello che deve fare il mio codice a livello di dominio senza nascondere come funziona le annotazioni nascondono un po' quindi dobbiamo ricordarci a che cosa servono l'attributo serve ad aggiungere dei metadata niente di più che poi io posso sfruttare quei metadata per simulare quei comportamenti come vi dicevo di registrazione come fa il container di symphony piuttosto che annotazioni di documenti eccetera è un altro discorso ma l'attributo aggiunge metadata a una classe a una proprietà o a un metodo eccetera questo ad esempio vuol dire che perché c'è stato un confronto con dei colleghi o anche delle prove eccetera che non è che uso un annotazione per fare validazione su una proprietà della classe no perdo il concetto che quella proprietà deve essere validata in un certo modo che magari invece è una specifica del mio dominio crea un oggetto con queste proprietà le proprietà devono essere soggette a questa validazione e fa tutto parte di un flusso logico che deve essere chiaro non lo devo nascondere con questi strumenti magici vi ho messo una svalangata di link sugli attributi perché è veramente un argomento corposo e proprio perché non è secondo me unicamente pensato all'utilizzo quotidiano c'è ancora un po' di confusione in giro e gli esempi sono un po' non molto chiari secondo me prima di andare avanti vi voglio fare vedere brevemente un esempio sul codice lato pratico si vede bene l'ide si vede il codice mi date un feedback io vedo e sono molto miope ok benissimo poi vi condivido anche questo repository che pubblico su github dove ci sono due esempi di annotazioni così ve li andate a vedere bene ho voluto riportare un esempio che è preso direttamente dal sito ufficiale di php che è quell'esempio borderline che vi dicevo l'altro invece è la classica registrazione di ascoltatori di eventi eccetera nell'esempio fatto da php hanno ipotizzato una generica interfaccia di esecuzione di un'azione quindi ho un'azione la eseguo ok poi hanno sviluppato un'azione quindi l'azione è copy file e quindi sono andato ad implementare cioè nell'esempio implementano l'unico metodo che l'interfaccia mi dice di implementare cioè il metodo execute scusate eccolo qui quindi come vedete l'execute non fa altro che il copy da un file sorgente a un file di destinazione ok dovrebbe essere tutto chiaro fino qui nell'esempio immaginato nel sito di php dicono bene però alcune azioni hanno delle operazioni preliminari delle operazioni di setup che devono essere eseguite prima del metodo execute nel caso di un file dicono bene io prima voglio verificare che il file che il file esista il file sorgente e poi voglio verificare anche che la destinazione sia valida o meglio verifico io qui l'ho un po' modificato comunque voglio essere certo che la destinazione esista quindi la creo come vedete questi due metodi quindi file exists e target directory exist non fanno parte dell'interfaccia action sono una cosa specifica di questa azione e allora uno alla vecchia probabilmente avrebbe messo nell'execute di questa specificazione le chiamate a file exist e target directory no? così quando io vado a creare la mia azione la eseguo prima del copy faccio queste due verifiche no no non hanno fatto così vediamo che cosa hanno fatto innanzitutto hanno marcato questi due metodi come vi dicevo gli attributi possiamo applicarli non solo alle classi ma proprietà metodi eccetera quindi hanno detto bene aggiungo un metadata a questi due metodi aggiungo un metadata che si chiama setup come vi dicevo poco fa gli attributi non sono altro che classi che marcano se stesse come attributi sembra un gioco di parole phpstorm è già sul pezzo quindi se io vado a vedere che cos'è setup è una classe qui nella mia cartellina che è marcata come attributo ok dopo di che è stato creato un orchestratore execute action che riceve un'azione e qui nasce la magia quella famosa magia di cui vi parlavo io la considero magia può essere un mio parere soggettivo ma la considero magia come vedete viene fatta reflection sull'azione che vogliamo eseguire sulla reflection vado a ciclare i metodi quindi vuol dire che provate a seguirmi dopo ve lo faccio vedere all'azione con xdebug con i breakpoint quindi vuol dire che ogni volta che vado a ciclare che ciclo i metodi method che cosa conterrà alla prima iterazione conterrà il file exist target directory eccetera tuttavia tuttavia per ogni metodo della classe perché lui ovviamente questo reflection get methods mi prende anche il metodo execute al momento giusto bene su ogni metodo ecco questo qui fa parte di php 8 get attributes quindi vuol dire che sul metodo ad esempio file exist prendo gli attributi se gli attributi sono ma più di zero quindi se c'è un attributo ah attenzione su questo metodo gli posso indicare il nome dell'attributo che sto cercando quindi come vedete io sto chiedendo se quel metodo ha l'attributo setup allora se ce l'ha prendo il nome e sull'azione in entrata eseguo ora non so se vi è chiaro cosa hanno fatto questa per me è una cosa veramente un po' un po' strana loro hanno fatto questo orchestratore in modo da dire se nell'azione che stai eseguendo trovi dei metodi che hanno l'attributo setup allora esegui quel metodo e poi alla fine chiami l'execute che fa parte dell'interfaccia io capisco che è una figata però ripeto per me è un'arma a doppio taglio vi faccio un esempio che cosa succede adesso io vi faccio una domanda retorica perché non mi potete rispondere al volo ma provate a immaginare se io facessi questo quindi ho invertito i metodi ora probabilmente in questo caso non succede niente ma quell'orchestratore i metodi me li esegue in ordine cronologico tra l'altro eseguire metodi in quell'ordine equivale introdurre una dipendenza temporale vuol dire che i metodi devono essere eseguiti per forza in quel modo altrimenti qualcosa potrebbe non andare ecco questo intendo per arma a doppio taglio vi voglio far vedere adesso per farvi capire cosa succede al volo con la reflection allora ho creato dei test con phpunit solo per avere qualcosa da da eseguire tutto qui alla fine come vedete il test non asserisce niente però mi serviva qualcosa per per fare un run del del codice ok quindi ho creato la mia azione copy file ho creato istanziato il mio esecutore di azioni e gli sto dicendo di eseguirlo ecco qui la magia forse vi devo ingrandire un po' la shell perché è piccolina ingrandisco un attimo proviamo così ecco con xdebug attivo forse non parte si è ingrandito vediamo no con il debug rimane piccolo io spero che si legga che si legga bene ok vedete che l'azione che sto eseguendo è copy file la reflection ed ecco qui il primo metodo file exists su questo metodo file exists vado a prendere gli attributi di tipo setup ed ecco che mi è stato ritornato qualcosa qualcosa che non ci dice che cos'è però lo ha trovato siccome è maggiore di zero quindi siccome ci sono degli attributi prende il nome del metodo method name che è questo file exist e lo va a eseguire ecco questa è la potenza della reflection mischiata a questo nuovo concetto degli attributi quindi questi metadati fanno veramente parte del linguaggio se noi avessimo fatto avessimo voluto sfruttare questa magia facendo magari in questo modo che ne so ovviamente non esiste questo lato reflection non è intercettabile questo non esiste è un commento i commenti solitamente vengono cavati totalmente quindi se devo intercettare i commenti ho bisogno di qualcosa che mi analizza il codice prima che è quello che fa la libreria di doctrine ecco questo è un esempio veramente borderline secondo me di utilizzo dell'annotazione poi vi do pubblicheremo tutto sul su github del pug troverete anche questo secondo esempio in cui c'è qualcosa di più classico secondo me per le annotazioni dove c'è praticamente un un attributo listen to che accetta un evento e poi c'è l'event dispatcher service provider e quindi la registrazione dei vari listener quindi la sottoscrizione perché come vi faccio vedere qui in questa sintassi un pochino più avanzata un attributo non è solo questo che vi ho fatto vedere prima prima avevamo visto questo setup in realtà voi potete aggiungere ulteriori informazioni perché come abbiamo detto alla fine gli attributi sono classi quindi qui gli sto passando anche qualcosa al listen to che è una classe gli sto passando anche l'evento vedete che questo attributo al costruttore accetta una stringa quindi qui io gli sto dicendo che quel listen to product created qui è il product deleted quindi gli sto dicendo l'oggetto che devi ascoltare e giusto per farvelo vedere al volo nella parte magica di tutto ciò quando dobbiamo andare a risolvere il listener per quell'evento ugualmente reflection metodi get attributes come abbiamo visto prima sul metodo diciamo dammi gli attributi di questo tipo quindi di tipo listen to e poi su ogni attributo possiamo prendere l'attribute name e gli argomenti degli attributi eccetera eccetera tutto tramite la reflection se mai vi venissero in mente casi d'uso reali nella vita veramente di tutti i giorni contattatemi perché sono curioso ok ho venuto prima una parentesi io lavoro unicamente con PHP Storm come IDE PHP Storm è già pronto per PHP 8 e anche per gli attributi quindi PHP Storm mette a disposizione degli attributi che poi lui usa per i suoi controlli interni di analisi statica quindi possiamo indicare che ad esempio una funzione pura oppure che è deprecata o immutabile oppure che ritorna un array con una certa forma e vi ho dato il link in cui parlano di questa cosa io personalmente ve lo sconsiglio perché ve lo sconsiglio perché proviamo a fare un esempio prendo prendo giusto un file per scrivere qualcosa se io qui facessi una una funzione tipo ok io per PHP questa per lui ora io ho l'inspector disabilitato ma PHP mi direbbe che questa per lui è una funzione pura e quindi mi propone di fare questo come vedete ho JetBrains PHP Storm pur che lui mi include quindi sono in space per me questa cosa non è molto bella perché è legata a PHP Storm e se passo il mio progetto a un collega che non usa PHP Storm come si comporta sta cosa non lo so e questo problema è stato risolto per chi è interessato a queste cose da Salm Salm vediamo se sarò bravo mi piacerebbe parlarvene prossimamente è uno strumento di analisi statica del codice che andrà molto ad utilizzare il concetto di attributo e hanno già sviluppato una libreria che la trovate in in questi due link che vi ho messo nella slide dove ad esempio Salm ha già la sua sintassi per dire che una funzione è pura grazie alla libreria da installare con Composer ci dà ci mette a disposizione l'attributo quindi tornando ad esempio quando faccio l'import ecco ho questa qui questo per me è molto meglio perché anche se passo il progetto a un mio collega che non usa PHP Store ma usa VS Code lui questa libreria ce l'ha dentro Composer perché è una libreria che è eccola questa qui e quindi tutti è una dipendenza che hanno tutti quindi non è una dipendenza dei leader sarebbe veramente problematico da gestire tra l'altro giusto un piccolo spin off tramite Salm possiamo andare a verificare che un nostro progetto una nostra codebase sia più o meno compatibile con PHP 8 quindi noi lanciamo Salm con con questa opzione e ci dà una sorta di report di problemi di compatibilità con con il passaggio a PHP 8 quindi se volete fare delle prove avete dei progetti ad esempio non so con PHP 7.4 volete vedere come sono messi in un possibile aggiornamento Salm potrebbe esservi utile poi ripeto se riusciamo prossimamente ne parliamo meglio ok andiamo avanti named arguments questa è una cosa veramente comoda allora in questo snippet di codice vi sto mostrando la firma del metodo array slice array slice se no io do un array gli do delle delle indicazioni e lui mi ritorna delle fette insomma delle porzioni di di quest'array quindi vuole l'array vuole l'offset la lunghezza e se deve preservare le chiavi e mi ritorna l'array ho fatto un esempio ho fatto un array ho usato la ventissima sintassi array perché ero nostalgico con cinque letterine e poi faccio lo slice array slice input meno due uno true io non so voi ma quando mi trovo davanti a funzioni tipo questa vado in crisi non mi ricordo mai che cos'è meno due che cos'è uno e allora devo entrare nella firma e a vedere un po' l'ordine delle cose eccetera in questi casi PHP 8 ci aiuta con una cosa per me comodissima eccola qua possiamo indicare il nome dell'argomento quindi uso praticamente come nome dell'argomento il nome della variabile indicata nella firma quindi come vedete ho array offset length e preserve keys e sono qui questo da leggere è facilissimo è veramente torna utile a me piace sempre avere molta facilità nella lettura del codice non voglio perdere tempo a capire quindi mi aiuto con i nomi delle funzioni con i nomi delle classi eccetera ma anche questa cosa qui di potermi ricordare o comunque capire al volo che cos'è quel meno due è per me è fantastico offset meno due length uno secondo me è una cosa molto utile ovvio se se invece di meno due valorizzo una variabile che la chiamo offset e qui passo la variabile offset ok però dovrei dichiarare tutte quelle variabili anche no ok null safe operator allora qui siamo versione precedente a PHP 8 quindi cosa sto facendo ho un repository immaginatevi un generico repository senza pensare obbligatoriamente a doctrine quindi un contenitore di cose di oggetti dello stesso tipo se non è null o meglio se null basta non faccio niente altrimenti uso repository per prendere lo user con il d5 e me lo torna poi devo vedere ma mi avrà tornato null perché magari non esiste lo user con il d5 mi è tornato null allora se mi torna null result è null altrimenti prendi dallo user il name questa è una realtà credo nota a molti che cosa ci dà PHP 8 ecco PHP 8 quindi dall'8 in poi questa unica riga fa tutto quello che è stato fatto in in questo blocchetto di codici quassù quindi repository punto interrogativo quindi se non è null allora ci chiami il metodo get user se ritorna qualcosa di non null ci chiami name beh è una una bella scorciatoia ovviamente anche qui non abusiamo perché se inizio a fare un chain di 10 null safe operator probabilmente ho qualcosa nel design della mia applicazione che è da rivedere però insomma casi limite dove ci si può risparmiare tutto questo if e quindi sposare la famosissima campagna anti if insomma direi che non è male ovviamente qui cosa succede che se repository è null result è subito null se non è null ma è get user che ritorna null il null viene assegnato a result eccetera ok indici negativi negli array prima di php8 se andavamo a fare ecco anche qui meno 5 array fill mi riempie mi crea un array riempito con true in base a questi due parametri anche qui se avessi usato il nome del parametro sarebbe stato comodo ma però qui è php minore di 8 quindi non c'è io gli sto dicendo di mettermi quattro elementi con valore true e come vedete lui la prima me l'ha chiamata meno 5 e poi però dall'elemento 1 in poi è partito con la numerazione da 0 perché gli array partono da 0 invece cosa fa php8 no php8 dice a me le numerazioni negative mi vanno bene mi piacciono e quindi gli dico parti con meno 5 e lui in automatico mi fa meno 4 meno 3 meno 2 probabilmente non è una cosa che faremo tutti i giorni ma può tornare utile oh questa è carina ora il lancio di un'eccezione può essere usata come un'espressione allora prendiamo spunto per farla per fare vedere un potenziale non male arrow function di php7.4 quindi funzione fn throw new exception ora questo si può fare oppure null coalition operator di php7 e poi c'è il punto esclamativo esclamativo uguale che però è di php7.4 anche qui possiamo lanciare quindi qui cosa stiamo dicendo se session user è nullo allora lancia un'eccezione questo prima di php8 non si può fare invece già io ho dei progetti con php8 e queste cose mi stanno veramente tornando comode per snellire e soprattutto leggere il codice in maniera più semplice oh questa è bella uno switch penso che lo switch si usi tanto quindi che cosa ho qui ho una variabile fu che uso come oggetto dello switch e poi dico se fu vale a fai una cosa oppure di default farne un'altra bene php8 ci dà una nuova funzionalità che si chiama match eccola qui quindi invece di fare di utilizzare il costrutto switch case possiamo fare che tra l'altro come vedete nello switch la variabile res che io sto valorizzando la devo mettere all'interno di ogni case perché ogni case è isolato diciamo invece match ha questa sintassi quindi match l'oggetto il soggetto sul quale vogliamo lavorare e poi invece di avere i case abbiamo direttamente il valore da prendere in considerazione quindi io sto dicendo se match allora sto dicendo se fu è uguale a allora ritorni a a chi lo ritorna a res altrimenti di default torna a b a chi lo ritorna a res quindi come vedete non è che ho dovuto valorizzare res all'interno di ogni di ogni valutazione è il match che mi ritorna il valore anche questa è una sintassi molto più snella e anche più facile da leggere andiamo a concatenare con qualcosa che abbiamo visto prima che cosa sto facendo qui sto matchando x come condizione io qui ho usato delle variabili ho usato a e ho usato default ma posso usare anche la chiamata a una funzione ma questo forse si può fare anche con lo switch se non mi sbaglio sì penso di sì quindi vabbè quindi se quello che mi torna fu è uguale a x allora fai qualcosa altrimenti quest'ultima riga è interessante se a o b sono uguali a x ecco lancia un'eccezione perché la sto posso usare l'eccezione come un'espressione e questo è veramente veramente comodo e e direi che sul match non c'è altro dire ho fatto un po' di esempi anche qui possiamo usare i metodi e cos'è che ci dice che sì che devono essere uguali quello che mi torna al metodo deve essere uguale a x e anche questa direi che ci può tornare molto utile ok questa sì carina dipende come vi piace formatare il codice da PHP 7.3 in poi possiamo aggiungere la virgola quando chiamiamo ad esempio una funzione nei parametri che passiamo alla funzione possiamo aggiungergli la virgola all'ultimo parametro questa è una cosa che molti altri linguaggi già fanno nativamente con PHP 8 ora anche in dichiarazione delle funzioni dei metodi possiamo metterla quindi per formatare il codice magari se avete delle firme un po' lunghe cosa che non dovrebbe succedere però può succedere se avete le firme un po' lunghe volete fare una formatazione più pulita possiamo mettere la virgolina che è comodo per raggiungere anche poi parametri in futuro insomma ci dà un margine di errore più basso ok sono state introdotte anche delle funzioni oltre a tutte queste funzionalità sono state aggiunte proprio delle funzioni qui avete il link dove c'è la lista completa io mi sono sentito di riportare queste perché mi sono sempre chiesto come mai non ci fossero una su tutte strcontains prima di php8 se volevamo vedere se una determinata stringa fosse sotto stringa di un'altra dovevamo ad esempio fare strpos è uno dei modi quindi andavo a vedere la posizione di words all'interno di questa stringa e se quello che mi torna è diverso da false allora c'era con php8 abbiamo strcontains quindi mi sto chiedendo se ce l'ago nel pagliaio direttamente mi torno a true false senza dover diventare matto a fare diverso da false e allo stesso modo possiamo verificare se una stringa inizia con una determinata stringa o se finisce con una determinata stringa queste funzioncine qui secondo me possono semplificare la vita di tutti i giorni bene siamo arrivati in fondo non è tutto quello che c'è di nuovo in php8 però secondo me sono le cose che più possono servire altre cose sono magari più interne come ad esempio hanno uniformato determinati errori magari se chiamavi un metodo di un'interfaccia piuttosto che di una classe astratta cambiava la tipologia dell'errore ora hanno uniformato anche ulteriormente l'error handling vi ho messo i link vi ho messo i link a a tutte le le rfc a tutto quello che c'è di nuovo in php8 di vari siti che ho utilizzato spiegazioni su gitt e c'è questo sito che io guardo spesso vi consiglio di dare un occhio a chi non lo conoscesse si chiama rfc watch che tiene monitorate tutte le rfc in corso e ci dice a che punto sono ad esempio vedete qui php8.1 spoileriamo un po' ci porteranno gli enum nativi oppure ci dice quelle che già sono state accettate per php8.1 eccetera eccetera quindi oppure quelle per 8 per php8 eccetera bene direi che siamo arrivati in fondo quindi se ci sono delle domande o se volete dei chiarimenti su cose spiegate un po' così è il momento giusto Matteo intanto ti ringrazio per il talk ti faccio l'applauso anche se probabilmente sentirei solo il mio grazie mille e ricordo tutti che le domande le facciamo su slido avete il link in chat intanto visto ce ne sono un paio se volete vi lascio qualche minuto per scriverne delle altre grazie grazie a tutti